Buonasera andiamo a vedere adesso però mettere così e si spostano questo va bene tutto in due mi sembra un pochettino oscuro la dentro però potessero un po' più di più che si sistema e che stiamo a come cosa stai? ma dalle camera di guerra dalle camera giù? di guerra e in HD e stiamo in giocci che hai messo una parola a me la faccia difficile che stai facendo la backstage di un film dure il film penso dopo mi vuole un film però non lo so non mi convince la parte ma non si scudo e intanto mi sta facendo registrare il baby stage con i personaggi che fanno il film e che parlano del film vediamo se lo faccio non so quindi ho prenduto un pochettino prima che la faccio preparare abbiamo quindi se magari qualcuno ti piace o non ti faccio preparare secondo me non so vabbè se no niente di sana soltanto il babà vabbè d'accordo se no come ne ha avuto il tervedo? un campari se no un campari Peter Campari non so davvero non so non so non so mi aspetta per tenere quando mi 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 gioia 20 6 2012 una malvica non mi risponde cercando scuse per interromper le amicizie a portarci vedere lo spettacoloarbeiten si è fatta venire una crisis isterica e non mi sta chiamando più grab sulla Si, si metteva a dire che dovevo fare qualche cosa là, c'era appena finito lo spettacolo, ma sei morto così, che fai, non fai niente, c'è un spettacolo e tu così non dici niente, non fai niente, non riuscivo ad interromperla in un dato momento, poi si sono avvicinate due persone e ho approfittato un po' e scattato la discussione appena che sono andato a fumare una sigaretta, poi sono tornato, ho continuato a ripetere queste cose come se dovevo fare qualche faccio, qualche cosa che non facevo e alla fine l'ho lasciato là e ci accompagnavano, volevo andare a Nicolossi e sono andato a casa. Bu, che saccio. Che ne sono? Grazie. 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 Grazie.